Allora Giulia, come ci siamo trovate? Io mi sono trovata benissimo perché finché si sorride si sta bene, tu che ne pensi? Allora io penso proprio la stessa cosa, guarda siamo telepatiche, no va bene il senso è stato bello e anche commovente perché comunque la comunicazione e l'espressione artistica è alla base di qualsiasi rapporto umano e quindi farlo anche davanti a un pubblico che ha vissuto le nostre stesse storie e noi l'abbiamo resa in chiave comica è stato molto forte oltre che divertente ma soprattutto sempre col sorriso sulle labbra, ci sono divertite tanto. Molto, moltissimo e devo dire la verità che nonostante poco tempo che abbiamo avuto a disposizione abbiamo trovato un'accoglienza meravigliosa, gli operatori sanitari sono stupendi e la nostra Angela De Baide buttata in mezzo in questa bagarre se l'è cavata benissimo che lei è un'operatrice sanitaria quindi insomma non è proprio un'attrice ma è stata egregia. Quindi che dire sorridiamo, sorridiamo e sempre il sorriso sulle labbra.